No, mi sono tanto divertita, è stata una bella partita anche da vedere e poi per noi erano importanti i tre punti, siamo state brave con queste squadre bisogna subito aggredirle dall'inizio perché sennò diventa molto pericolosa Ora un turno di riposo per voi, ci voleva con tutti gli impegni in Champions e poi gli obiettivi non cambiano, sono sempre quelli, vincere tutto Ci proviamo, sì, noi vogliamo, è quello che vogliamo adesso ci riposiamo perché abbiamo bisogno, siamo un po' stanche e poi ripartiamo più forti di prima